Elton John questa sera Un evento storico, Napoli meritava questo grande evento, una grande leggenda, una leggenda vivente E cosa rappresenta nel mondo della musica Elton John? Beh, rappresenta tutto quello che rappresenta la musica, lui è il grande in persona la musica, la musica planetaria e quindi Elton John, beh, penso proprio, quando dici Elton John dici musica E quando dici musica dici Napoli, Elton John su poltron scenico di Piazza del Decido La musica 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 di Piazza del Decido This is your brand new brother